Intrigo internazionale a Sant'Elena, un governatore, un medico e l'imperatore. Questo l'affascinante titolo della serata dedicata a Napoleone, ospitata a martedì sera nel chiostro di San Micheletto, nell'ambito delle conversazioni napoleoniche 2014. Relatore d'eccezione Peter Hicks, docente universitario e responsabile delle relazioni internazionali della Fondation Napoleon di Parigi. Tema della serata, la prigionia dell'imperatore a Sant'Elena e il suo rapporto con il medico che gli venne assegnato, l'irlandese Barry Edward O'Meary. Tanto si è detto del rapporto che si instaurò tra i due. Si sospetta addirittura che il medico alla fine abbia avvelenato Napoleone. Ma è vero? Non è vero, ma ha prodotto un conflitto maggiore politico nell'Inghilterra negli anni 1820-1830. E che cosa pensa Hicks di ciò che è stato detto in generale sulla vita di Napoleone? Si ha scritto tante sciocchezze su di lui, dunque resta un po' di lavoro per ritrovare le cose vere. Il progetto delle conversazioni napoleoniche è ideato da Roberta Martinelli e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Livorno, con la collaborazione del Comune, della Provincia e del Cineforum Ezechiele. Grazie a Venezia. Grazie a Venezia.